Altezza! Ehi principe! Posso? Le mani a poco! Ehi madonna! Ah, chi stai qua? Dimmi! Tra amici! Figurati! C'è la confidenza no? Che scherzi! Ma a te... piacciono le donne con i seni appesi? Le donne con i seni appesi? Madonna santa! Ma che stai scherzando? Io con questi seni appesi... Madonna! Assolutamente no! Senti, e le donne con la cellulite? La cellulite? Mamma mia! Che sono questi argomenti a questo che mangio a mangiare? Madonna santa! Con la cellulite! Ma questa cellulite appesa qua! Sì! E le donne pettegole? No! Quelle proprio le odio proprio! La categoria che odio di più! Cioè le pettegole proprio alla larga! Lo immaginavo! Lo immaginavo! Senti, e perché continui ad andare a letto con mia moglie?